Oggi mi veniterò con i Stark e Iron Man e Iron Man si butta giù dal cielo Iron Man si butta giù dal cielo Iron Man si butta giù dal cielo Iron Man! Questo è un'azienda di questa industria Si trova insieme Andamina by Rax che cacchio non vuoi vedere che mi ammazzano primo corpo già c'è una cosa e non fare casino ricordati che io sono il tuo padrone guarda che mira ricorda quello io sono il tuo padrone non mi piace ciao padrone brutto andiamo ma adesso non è il momento no 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 mi apri a scompigge un teccio che me lo batterò ah e dove si trova? non lo so ecco lo non deve attenzare il mio caso ooooh il supermerato è il tizio capo che brucia che me lo ammazzano si è bravo che sono spirito giusto ma chi è che sta uccidendo? chi è che volete uccidere? che è che volete uccidere? altizio signore io ho bisogno di cure vado searches a quelle uccidere i che ? mezzo guadono che è un uccidere il nostro capo non è un capo! Iron Man è il capo! Ragazzi, uccidetevi! Non potete fallire, rimanetevi capire! Vero! Non dirmi che sei morto! Dica mia! Se vai uccidetevi! No capo! È morto lino! Sì! Lascio lasciare! Questa è un domenica! Si vai, sparatelo! L'ho visto anche io! Capo! Se ne è scappato! No! Lasciatelo perdere! Ho scuso il botto! Lasciatelo perdere! Se ritorno qui, uccidiamolo! Bombardatelo! Ok, ora li faccio capire capo! No! Lino capo! Io sono il tuo loco! Ho capito! Sì, signore! Ah! Ah! Ho scuso! 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 No! No! Io sono il tuo capo! Ho scuso! Hai capito? Si o no? Io sono il tuo capo! Ho scuso! Ho scuso! Ho scuso! Mi piace! ok quindi porto anche la mia camera da pesca di banana che è la rubata sento la sua voce sento la mancanza di banalità dove si sono trastinati? andiamo a cavo! si signore! si signore signoruto brutto questo è lo spedito giusto eccoci qua la cassa porta questo è il giusto per riparazione oh questo è legato non si fa che dobbiamo andare un altro passato si e dove si trova questo brutto qui? lo butto da dove si trovi? forse ragazzi se ne è scappato può essere ma avete detto che va sempre lì? forse si trova in un'altra casa magari in quello io non siamo andati proprio oh magari si trova in quella casa se sono andato prima non c'era nessuno oh no e allora non abbiamo idea di dove potrà essere nascosto e sicuro se sono andato non mi sono certo comunque è brutto nasconditi ok 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 ecco 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.